Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà seduta, oggi giovedì 27 gennaio, sono le ore 16, partirei come al solito dal mercato italiano, il nostro future Fuzzi Mib che oggi si sta comportando molto bene, direi molto molto bene perché ha raggiunto con questa lunga candela verde nuovamente la soglia dei 27 mila punti, superata di pochi tic nell'intraday ma ha sicuramente proiettata verso un suo superamento eventualmente confermato nelle prossime sedute con chiusura dei lì superiore tale livello. Di sicuro abbiamo scongiurato ciò che invece sembrava più probabile nelle sedute precedenti, cioè la rottura, violazione al ribasso dell'importante livello 26 mila. Qualche volta ha tentato di farlo nell'intraday raggiungendo addirittura lunedì 24 il livello 25 mila 630 e anche giorno successivo ma sempre poi riuscendo a chiudere sopra il livello 26 mila recuperando sul finale di seduta riassorbendo parte delle perdite intraday e oggi finalmente un importante rimbalzo. Spero che questo sia come mi auguro e anche mi sembra di poter prevedere per le prossime sedute che sia di buon auspicio per il futuro. Credo che probabilmente vi sarà un piccolo pullback che potrà far tornare i prezzi ancora verso il 26 mila e 700, 26 mila e 600 ma da qui poi il mercato potrebbe ripartire al rialzo se trainato soprattutto da, come vedremo più avanti, dalle borse americane. Comunque sembrerebbe essere tornato l'ottimismo sul mercato italiano. Impostazione grafica è analoga anche per quanto riguarda il mercato tedesco, il Future Dax che anche oggi sta rimbalzando molto bene avendo superato il livello 15 mila e 500. Una giornata non partita particolarmente bene, ancora una volta aveva tentato di raggiungere al ribasso la soglia dei 15 mila punti che è un po' considerato lo spartiacque tra positività e negatività, più o meno corrispondente al 26 mila del nostro Fuzzimib. Anche qui nelle sedute precedenti ha tentato nell'intraday di Viorallo Ribasso senza mai riuscire ad avere una chiusura daily inferiore e finalmente sembrerebbe essere partito il rimbalzo. Nelle prossime sedute ci può stare effettivamente un piccolo pullback, ci può stare un ritracciamento che potrà portare i prezzi ancora verso il 15 mila e 250 ma credo che la negatività ormai sia scongiurata e sia alle spalle per cui potremmo assistere ad un rimbalzo molto più importante e questo per la settimana prossima o sul fine della prossima settimana fino a raggiungere un target che al momento sembra ambizioso ma comunque raggiungibile del 15 mila e 750 dove è al momento presente una media mobile qui indicata in verde che oltretutto è anche piatta quindi fa anche da resistenza. Passando oltre l'oceano al mercato americano questo è il grafico dello Standard & Poor's 500 che è un pochettino più debole come ormai diciamo da qualche settimana rispetto alle borse europee. Qui la discesa nel mese di gennaio è stata più profonda e più spiccata e adesso il rimbalzo sembra essere o avvenire in modo più faticoso. Anche qui comunque intravediamo un supporto sul livello 4.300 anche qui tentativi di violazione di questo livello avvenuti nell'intraday più volte ma senza mai una chiusura inferiore e daily sotto questo livello e quindi un tentativo di rimbalzo per vedere se riuscirà ad espandersi al rialzo. Per le prossime sedute è importante perché questo rimbalzo possa continuare per tentare di arrivare almeno a 4.500 4.550 sarebbe una chiusura daily superiore al 4.400. Adesso siamo a 4.416 lo stiamo lavorando proprio in questi momenti vedremo se riusciremo a chiudere sopra 4.400 che potrebbe essere di buon asficio per le sedute successive. Comunque tra mercati europei e mercati americani se c'è da scommettere su un long meglio e più conveniente farlo sulle borse europee. Ripeto la borsa americana è decisamente più debole e se devo aggiungere poi dico anche che addirittura il Nasdaq che invece ci aveva abituato nei mesi scorsi ad essere molto forti è addirittura più debole rispetto allo Standard & Poor's 500. Cambiando completamente argomento e passando alle commodities partendo dal crude oil, il petrolio, in questo momento la mia posizione è flat perché ancora come già detto nell'analisi della scorsa settimana che si è rivelata corretta ma non mi ha dato spunti operativi, il target verso 88 dollari al barile era già secondo me troppo alto, aspettavo un ritracciamento, avevo già dato in tutta la serie di operazioni che abbiamo effettuato anche e di cui vi ho reso conto durante queste analisi nelle scorse settimane erano tutte operazioni longhe, quasi tutte andate a buon fine cavalcando questo lungo trend rialzista del petrolio però l'ultima operazione l'ho chiusa a 85 come ultimo target e secondo me era un punto di arrivo che aveva bisogno di una sessione, di un ritracciamento di presi di beneficio, così in realtà non è stato e il mercato ha continuato a salire raggiungendo addirittura 88 e proprio oggi anche un massimo a 88 e 54. Io non mi sento francamente di comprare petrolio oggi né di comprare a questi livelli troppo alti perché comprare sui massimi effettivamente è un rischio, aspetto un ritracciamento, aspetto prese di beneficio più consistenti verso dei supporti che possono essere 82 o anche 80-81 che aspetto già da un pezzo ma che non stanno ancora arrivando, quindi mi metterò in posizione long perché credo nel medio-lungo termine da cui a fine anno il petrolio possa anche arrivare a quei 100 dollari cifra tonda che molte banche d'affari hanno dato come obiettivo e questo francamente lo credo anch'io però a prigionio prima di un ritracciamento e vorrei comprarlo come buona occasione d'acquisto a un prezzo più basso, quindi al momento non ho segnali operativi, non entro in posizione, lo aspetto verso 80 dollari al barile per poi rimettermi ovviamente in posizione long ma voglio comprare a prezzi più bassi. Poi passando all'oro invece qui il raggiornamento sulla nostra posizione long a 1830, sì, la fornisco molto volentieri, ho chiuso la posizione e ho chiuso in guadagno. Vi ricorderete avevo una posizione long a 1830 aperta il 19 gennaio alla rottura, superamento di un massimo precedente che era proprio su 1830, quindi ero in posizione long e aspettavo come target 1850, 1855, l'avevo dichiarato nella videoanalisi della scorsa settimana, chi vuole può andarsela a risentire, effettivamente l'altro giorno, martedì, è arrivato a 1854,2, all'ambito quel 1855 che era il mio target e poi nell'intra dei tornati indietro. Io a quel punto non sono stato avido per fortuna e ho fatto bene, questo è di grosso insegnamento anche per chi mi ascolta, quindi non mi sono intestardito su 1855 che tra l'altro non ha mai raggiunto e ho visto che pian piano stava tornando indietro, tornando indietro, tornando indietro, quando è arrivato a 1850 io comunque ho tagliato la testa e il toro, ho chiuso la posizione e ho fatto bene perché ho chiuso quindi questa operazione long di 5-6 giorni con 20 punti di guadagno, 20 dollari all'oncia di guadagno e poi da quel momento poi l'oro è crollato ed è tornato a 1800 nel giro di due sedute, quindi l'operazione long 1830-1850 è andata a buon fine in guadagno e bene a non intestardirsi sui target perché effettivamente poi c'è il rischio che il mercato ti vada contro come effettivamente mi è andato. Cosa può succedere nelle prossime settimane? Ecco io credo che l'oro rimbalzerà, è arrivato su un supporto del super trend e quindi eventualmente short se venisse rotto 1792 dove c'è il super trend, altrimenti sopra il livello 1810 che abbiamo visto più volte nel corso delle settimane passate, nuovamente da mettersi, quindi a questo punto a prezzi anche più bassi rispetto al 1830, in posizione long con un eventuale target attorno a 1840. Infine uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'euro-dollaro che in queste ultime due sedute tra ieri e oggi è in deciso e forte ribasso con una forza relativa del dollaro rispetto all'euro, niente di stravolgente, assolutamente prevedibile visto che considerate le parole dei Powell, il presidente della Fed che appunto ha addirittura ieri deciso di probabilmente anticipare a marzo, anziché quanto aveva detto in precedenza, cioè aprile, l'aumento dei tassi di interesse. Non è cambiato per niente la politica monetaria degli Stati Uniti, già nella riunione scorsa di dicembre aveva detto che il tapering sarebbe finito il 31 marzo e che da aprile in poi ogni giorno era buono per cominciare l'aumento dei tassi di interesse. Tre aumenti di tassi di interesse nel corso del 2022, dallo 0,25% ciascuno. Una politica monetaria già ampiamente prevista e programmata per tutto il 2022 e il 2023, per cui nessuna sorpresa neanche ieri, se non solo questa piccola anticipazione del fatto che il primo rialzo dei tassi potrebbe avvenire anche a marzo e non ad aprile, ma di per sé non cambia di per sé la situazione. La situazione che cambia è che gli operatori nella riunione di dicembre non avevano mosso dito e l'eurodollaro non si era mosso, mentre invece adesso finalmente gli operatori cominciano a prendere posizione a svegliarsi. È chiaro che un aumento dei tassi di interesse anche anticipato agevola il dollolo ed ecco perché il mercato è sceso. È stato rotto il super trend che era l'ultimo degli indicatori da violare al ribasso e discesa che nelle prossime sedute, a parte qualche doveroso, fisiologico, pullback o ritracciamento, rimbalzo che potrebbe arrivare verso 1,12, ma comunque diciamo che è prevedibile nelle prossime settimane avere o raggiungere un target ribassista anche a 1,11 e anche 1,10 e 50, quindi una continuazione nell'arco di due settimane anche molto più bassa, un'accelerazione ribassista con livelli più bassi rispetto a quelli attuali, quindi sicuramente il vento è in poppa per il dollaro e quindi l'eurodollaro decisamente più basso rispetto a livelli attuali. A parte diciamo ancora qualche seduta di assestamento dove potrebbe esserci un timido rimbalzo, ma sono tutte occasioni per mettersi nuovamente in posizione short a mio parere. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading!